La situazione possiamo definirla idilliaca delle società Dopo il casello Dopo il casello pagato In barca direttamente dal porto arrivavamo prima Bellissimo Perché ora pensiamo di arrivare a casa Facciamo il doddo Tra un paio d'ore tranquille Perché hai arrivato in forza? Perché mi hai fatto Cosa fai? Di dargli il bacino della buona notte? La chiave di casa E' male, le chiavi si portano Te le fai lasciare sotto lo zerbino Vabbè Questo video reportage Che fa vedere la mitica Autostrada croata La situazione idilliaca La dogana e tutto quanto Chiude Non vi faccio vedere cosa c'è dietro di me Perché è veramente meglio chiudere il filmato Ciao